Nella Job Act c'è una propensione verso quelli praticamente espansivi. Che cosa significa? Significa consentire eventualmente la riduzione di orario di lavoro. Nello stesso tempo il lavoratore che lo fa non perde assolutamente danaro in busta paga perché viene attratto e vincolato a un aspetto di ammortizzatore sociale, cioè l'IMPS, come se fosse una cassa integrazione, interviene per questa riduzione di orario di lavoro. Però nello stesso tempo che cosa consente? Il doppio di giallo consente naturalmente di allargare eventualmente la possibilità di assunzione verso i giovani. Poi ci sono ancora altri aspetti, per esempio questa questione di concorrenza con effetto premiale tra praticamente collocamento pubblico e privato. Parliamo naturalmente sia della tradizione, quello del collocamento, sia delle società di somministrazione e queste faranno una sorta di gara perché l'eventualità, la loro sostanza viene individuata nel collocamento della formazione soprattutto dei disoccupati e inoccupati. Ebbene, laddove riescono nel loro intento ci sarebbe poi un effetto premiale come una sorta di voucher da attribuire a una delle due strutture pubblico-private nel momento in cui è acclarato e verificato che il dipendente inoccupato ha assolto una funzione di formazione vera. Poi ci sono naturalmente anche aspetti che stanno in qualche modo rilevando un po' di criticità. Quali sono? Sarebbero l'articolo 18 che viene un po' rivisto sul discorso delle tutele e soprattutto sulla possibilità di assumere per i contratti a tempo indeterminato, quindi questo contratto a tutele crescente, previsto chiaramente rivolti a tutti con una possibilità di evitare il licenziamento ai primi tre anni e poi dopo successivamente applicarlo e quindi per questo motivo è a tutele crescenti. Ci sono però alcuni aspetti di criticità, dottor Primicelli. Allora perché eventualmente non si è pensato di sviluppare il famoso articolo 8 della 138 del 2011, cioè la legge Berlusconi si ricorda, prima che andasse via Berlusconi al governo, aveva in qualche modo ripreso il discorso delle gabbie salariali. Ebbene, noi eventualmente siamo propensi per un discorso di ripresa del mercato del lavoro a che praticamente questo discorso venga ripreso e applicato, perché in considerazione anche dell'aspetto che quello della pensione che in qualche modo si è rivista nel corso degli anni a partire da Decreto Dini della 41-95 andare avanti, il discorso magari di attribuire una sorta di contrattazione privata tra il dipendente e il datore di lavoro facendo riferimento a che cosa? Ai contributi minimi previsti, i cosiddetti contributi giornalieri minimi da parte dell'Inps dove praticamente si viene così a applicare indipendentemente dalla erogazione e della retribuzione potrebbe essere stato un aspetto interessante, magari ripreso e ribaltarlo in questa modifica in corso della Job Act, però stiamo ancora in tempo, chissà, forse probabilmente il nostro suggerimento arriverà a destinazione.